ciao ragazzi qui play ale bentornati su project zombie dopo tre giorni 5 ore e 58 zombie infatti fuori luca ci lascia ragazzi lo vediamo in mutande poverino perché nell'ultimo momento della sua vita era molto accaldato quindi diciamo che ho voluto aiutarlo nel per quanto riguarda il caldo nello spogliarlo ho provato di tutto la verità gli ho fatto mangiare l'ho fatto mangiare tanto l'ho fatto riposare purtroppo ragazzi sono stato sfortunato uno di quei grafici non sono mai stato morso premetto non sono mai stato morso quindi non c'è neanche la possibilità insomma che quello sia il motivo della sua morte sono stato semplicemente sfortunato nella sfiga quelle lacerazioni quei graffi insomma gli hanno dato che hanno causato il virus che dire andiamo di nuovo personaggio ragazzi io adesso la verità vorrei tornare a moldrug quasi quasi o anche se ritornare a riverside e magari perché no fare visita a casa di luca non sarebbe male ragazzi e sai cosa ritorniamo a riverside riverside rosewood non ho riverside avanti ok sapete cosa ragazzi io lo rifarei nuovamente carpentiere lettore veloce un attimino ragazzi eccoci qui ragazzi ritornati questo ragazzi vi presento è cosimino si chiama cosimino cosimino allora se andiamo a guardare l'info l'ho fatto sotto peso pacifista debole di stomaco stavolta non l'ho fatto cagionevole perché stavo leggendo cagionevole diminuisce le chance di di recupero da malattia e soprattutto aumenta le chance di pigliarsi la zombificazione quindi stavolta un bello ombrello e non lo facciamo miope escursionista per evitare la sfiga di gino allievo modello manualità fuori forma fuori forma però questo è dovuto dal fatto che è sotto peso qui no 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 pardon fuori forma è semplicemente gli darà un meno uno di forma fisica se non è al momento abbiamo quattro quindi non è neanche non è neanche questo grande problema insomma adesso facciamoci un attimino un'idea di dove siamo siamo proprio sponati a casa di che tristezza ragazzi sembra fatto apposta siamo proprio sponati a casa di luca ok adesso sapete cosa ragazzi io direi di andare qui è già pieno di zombie stiamo attenti perché vorrei evitare proprio di venire toccato anche una sola volta ok mi con molta calma piano pianino vedremo un po di farli fuori quelli che ci attaccano ok senza venire morsi né tantomeno graffiati ok fuori uno tu stai giù stai giù fuori due ok e però che palle ragazzi e dai no ok no non ne vale la pena allontaniamoci da qui allora la casa di luca se non erro la casa di luca sta qui a nord quindi io direi di andare lì recuperare tutto e semplicemente non so spostarci da questa zona perché secondo me sta zona si è non lo so mo pull la tra l'altro non vorrei dire una cazzata ma mi è parso di sentire l'elicottero mentre appunto luca stava riposando quindi non vorrei che appunto quel maledetto elicottero ci abbia portato ancora più zombie in zona allora vediamo una zombie quindi stiamo attenti ci sono anche due qui però quindi opterei per questa passare da qui insomma opterei questa strada eccoci qua allora facciamo fuori questo qui ok orologio niente vabbè ma alla fine orologio oggetti semplicemente riprenderemo tutto da luca quindi non dovrebbe essere un problema eccolo lì luca ah che tristezza ciao luca ok scusami eh però devo farlo ok beh io direi di allora pausa un attimino eh io direi di pigliare tutto tranne eh tranne lo straccio sporco hai cosimino bravissimo velocissimo sei stato molto bravo ok ok perfetto perfetto adesso eh orologio indossa ok e siamo pronti per entrare ok ok adesso qui prenderemo tutto no allora io prenderei il casco il borsone da lavoro ovviamente metteremo sulla schiena la cintura se non erro ce l'abbiamo già la cintura giusto? sì quindi no anche no eh portachiavi di luca sì grazie ripigliamo e come qualcos'altro no io direi di no eh anzi io direi di eh tenere perché no questa zona come pseudo base quando siamo in zona eh però è giunto il momento di trovare della benzina per la macchina di luca quindi ragazzi io mo vado in città e dai anzi no sapete cosa fatemi un attimino pigliare esatto l'accetta scelta rapida cintura non so a sinistra non vale l'altra alla fine eh più che altro dov'è il martello? ah eccolo qui ok e questo invece scelterà per la cintura a destra ok il martellone lo metterei però qui nel borsone aranciata vuota no un attimino torniamo in casa metteremo dell'acqua riempi bottiglia di aranciata vuota insomma bottiglia di aranciata e vi ragazzi si va alla volta della benzina e vi ragazzi qui non sono già le 9 e 10 mi passerei forse forse la notte in questa casetta dove siamo riusciti a entrare vediamo un attimino abbiamo del cili in scatola 2,60 sai cosa? dai mangiamoci sto cili in scatola tutto ce lo mangeremo tutto non c'è nient'altro per noi qui vabbè sai cosa? possiamo controllare la libreria però cosa abbiamo qui? carpenteria per principianti? no, non ci serve la matita cucina per maestri purtroppo non possiamo leggerlo ancora nel frigo cosa abbiamo? broccoli, ciliegi, lattuga, melanzana, rapanello no, io direi di passare la notte qui ragazzi e nella speranza ovviamente però che non ci veda nessuno dato che qui comunque sia non abbiamo tende quindi io per il momento sai cosa? mi chiuderei qui in questa stanza e se mi è possibile raccoglierei questo questo futon e lo sposterei davanti alla porta in modo tale che sia bloccata in modo tale che sia bloccata e che nessuno zombie possa entrare semplicemente adesso mi metterò a riposare un poco faremo riposare Cosimino e partiremo l'indomani mattina prima di tutto Cosimino a quanto pare è mattiniero e si è svegliato alle 4 e mezza volevo lavare lavare tutti i vestiti ovviamente poi vedremo anche di lavare il suo corpo in modo tale che sia bello pulito te stesso si adesso la bottiglia d'acqua ce l'abbiamo direi sai cosa riempiamola sono le 5 e 20 ok vorrei partire dopo le 6 almeno facciamo dopo le 6 mi mangerei sai cosa quasi quasi andrei di sardine in scatola vai ok e siamo pronti ragazzi strascio sterilizzato perfetto va bene siamo pronti per partire ragazzi sono le 5 e 40 stando molto molto attenti sto cercando più che altro una casetta tipo questa per dire con il nano bellissimo perché chi lo sa magari all'interno allora abbiamo un generatore generatore che al momento non ci serve ovviamente però questo mi dà da pensare che magari il vecchio proprietario all'interno di questo piccolo garage potrebbe perché no avere anche una tanica di benzina dato che il generatore non è che eh si ragazzi si si ok tanica di benzina impugna secondario se non ero giusto perché con la primaria abbiamo l'ascia esatto ok perfetto 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 c'è qualcos'altro che possiamo raccattare del cavo lamiera piccola e scarti metallici nè sinceramente non mi interessano queste cose ok sento rumori no eccolo qui ci sono zombie ok adesso il problema è che io sinceramente non mi ricordo eh ragazzi qua ce ne sono tanti però eh aiuto anche no grazie eh non non mi ricordo al 100% dove sia la benzina però mi ricordo che tipo qui in questa zona insomma all'interno del del della piccola cittadina di Riverwood giusto o Riverside non mi ricordo mai il nome di questo posto eh quindi adesso è è lì che andremo andremo lì oh che poi qui c'è il negozio di pesca che secondo me non non sarebbe male entrare e dare un'occhiata quindi visto che siamo qui perché no andiamo a dare un'occhiata passiamo qui da da dietro più che altro ed affacciamoci alla finestra per vedere se c'è qualcuno all'interno sembrerebbe di no vediamo se la finestra è aperta è anche aperta ottimo passa attraverso molto bene vediamo cosa abbiamo qui eh chiave inglese chiodi mazzetta ok cartella uh interessante kit per tenda questo assolutamente kit per tenda e picchetto me li piglio e metto tutto nel borsone tutto nel borsone a spalla ok adesso oh anche la chiave inglese non sarebbe male eh perché la chiave inglese se non erro ci serve per la meccanica ok che attualmente non penso possiamo fare nulla per quanto riguarda la meccanica però oh butta la via che fanno la pigli ehm un'altra cosa che faremi mangerei la fragola e anche una banana sì via ok oh ragazzi qui ottimo il fatto che ci sono dei barevi e anzi sai cosa potremmo pensare di eh non adesso non c'è fretta però quando finalmente diciamo contenitore cassette attrezzi all'interno c'è una sega che se non erro noi non abbiamo quindi ehm allora io la prendo per il momento e come faccio ad aprirla così sega da giardino la rimetto qui nello scaffale come metterò anche questa cassetta degli attrezzi sì sì metti nel ripiani e la sega ce la mettiamo nella borsa ok eh dicevo prima o poi la corrente andrà via come l'acqua eh quindi questi barili saranno la il miglior modo per avere dell'acqua a meno che uno vabbè non si avvicina al uno non va nel nel lago e semplicemente prende l'acqua dal lago insomma bisogna bollirla in modo tale che diventi eh buona da bere ok qui abbiamo attrezzatura da pesca lenzarete da pesca eh no eh 7.20 io direi di vedere un attimino se riusciamo a trovare la il benzinaio ragazzi abbiamo ritrovato la stazione della polizia eh sì la stazione della polizia beh sì effettivamente è qui eh più che altro la stazione del della benzina ok facciamo fuori questi zombie comunque ragazzi l'accetta è tanta tanta roba molto meglio rispetto del al martello sinceramente se se devo essere sincero l'accetta fa un botto di danni adesso vediamo un po' se riusciamo ad andare gli vieti se ne è accorto però ok molto bene vediamo un po' di farli fuori tutti questi che ci sono qui riuscirà a buttare giù la porta questo zombie la porta è chiusa la verità eh ice ghiaccio c'è del no purtroppo non c'è non c'è del gelato io vorrei entrare dentro però ragazzi vorrei entrare all'interno sai cosa fammi un attimo vedere qua col martello e semplicemente rimuovi i vetri rotti vai no no graffio sanguinante ok straccio sterilizzato vai subito ma porca di una porca pure l'allarme pure l'allarme ragazzi adesso arriveranno tutti adesso arriveranno da tutte le parti vabbè facciamo fuori questo qui adesso in più mannaggia nello scappare che birla nello scappare mi sono anche fatto mordere eh mordere graffiare madonna quanti sono facciamo così facciamo così cerchiamo di entrare qui nella stazione della polizia dai niente ok prego ok l'allarme è concluso ha finito di di allarmare ha finito di squillare insomma non lo so io spero che vedranno di spostarsi da questa zona ma non ne sono sicuro non sono sicuro lo faranno sai cosa martello spacchiamo il vetro e basta dai semplicemente rompi finestra vai rimuovi i vetri rotti porca oh e basta rimuovi i vetri rotti ok ok allora beh di sicuro c'è qualcuno qui non più ok fatemi guardare qui bendato avambraccio destro ok no niente semplicemente stiamo attenti stiamo attenti con questo braccio destro ok il bagno qui abbiamo tipo una porta blindata disassembla vai e quindi non c'è dato a sapere c'è qualcos'altro che possiamo trovare qui io ero convinto di arrivare insomma trovare armi trovare trovare addirittura beh effettivamente una pistola e scatole e munizioni perché no prendiamole non credo le utilizzeremo subito ovviamente anzi anzi vedremo di utilizzarle secondo me le utilizzerò quando proprio come arma finale ecco perché ovviamente la pistola farà casino quindi richiamerà a noi un sacco di un sacco di zombie adesso con molta calma dobbiamo provare ad avvicinarci alla alla manichetta cerchiamo di far fuori questo dai cadi a terra maledetto ok fuori uno arriva quest'altro facciamo fuori anche questo ne arrivano altri un altro quello lì perfetto dai e dai ok prendiamoci le spalle sempre va bene siamo a posto ok buttato giù e oh perfetto fuori con un colpo ok ne arriva un altro molto bene bravo Cosimino pigliamo anche gli antidotopoli edifici vai bravissimo allora arriva questo qui ok ok con calma con calma con calma ce la possiamo fare oh non voleva cadere questo qui ok ne arriva un altro vedremo di far fuori anche questo che alla fine che alla fine insomma se li facciamo fuori tutti va bene così eh liberiamo il perimetro alla fine almeno quello insomma medaglione scarpa di ginaglia niente che ci interessi qui ce ne sono due però e sinceramente di combatterne due alla volta non è che mi vada proprio aiuto tre addirittura madonna che palle però via semplicemente indietreggiamo e spingiamoli una cosa che possiamo fare assolutamente è avvicinarci qui alla ok ho un piano ho un piano ho un piano smettiamo anche di essere acquattati che tanto a questo punto non ha neanche più senso pulito ok entriamo chiudiamo la porta madonna dai vai giù però oh ok che palle ok quatti 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 con molta calma ci sono altri due qui uno alla porta perché possiamo vedere la porta che vibra allora aspetta passeremo da qui ritorniamo qui vediamo un po' io ragazzi finché non prendo la benzina non me ne vado ok uno uno mi guarda lo posso anche accettare vabbè uno non proprio arrivano in due alle spalle come siamo sembra tutto pulito non c'è nessuno ok no è stato lento e dai cosimo madonna duri a morire fasciatura sporca ok rimuovi benda graffio ok quindi la lacerazione è andata via è rimasto il graffio adesso va bene ferite superficiali dai mi fa ben sperare mi fa ben sperare ok ok adesso così mi ha affamato però all'interno del del benzinaio insomma ci dovrebbe essere del cibo giusto qualcosa che ci possa servire sembrerebbe di no via 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 ero talmente preso ragazzi dovete perdonarmi non ho registrato mentre mettevo la benzina però sono riuscito a riempire la tannica di benzina ok non ci resta altro che tornare indietro adesso se mi sarà possibile però vorrei fermarmi un attimino in quella piccola casetta che diciamo dove abbiamo passato la notte per prendere qualcosa da mangiare e poi andare a prendere la macchina del povero del povero Luca ciò che abbiamo fatto ragazzi siamo arrivati ok adesso guardiamoci un attimo attorno un botto di zombie qui la zona sembrerebbe pulita più o meno a parte questa miriade di zombie morti penso uccisi da no neanche penso uccisi da Luca allora come si fa a mettere la benzina? aggiungi carburante ok ok adesso la tannica di benzina vuota la metterei no sai cosa la metterei qui dentro all'interno della vettura proprio tannica di benzina vai e visto che ci siamo tutte queste belle cosucce le metterei qui nel cofano così da diminuire il peso trasportato al momento da Cosimino giusto? è così che ti chiami? Cosimino è il nome italianissimo no mannaggia ho fatto una cazzata kit per tenda vai anche questo è il momento della verità sì 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 perfetto ragazzi andiamo spostiamoci da qui io direi più che altro di ritornare a casa adesso prendere quello che possiamo prendere e semplicemente andarcene via subito 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 wow ma sì perché no facciamoli fuori cerchiamo di parcheggiare la vettura in un posto dove diciamo dovremmo essere capaci di fuggire senza troppi problemi tipo anche qui vai svegniamo abbandoniamo il veicolo siamo riusciti a raccattare più o meno tutto prima di partire però che succede? il nostro Luke è assonnato ok sai cosa? allora a sto punto prendiamo la bistecca ci mangeremo una bella bistecca accendi faremo riposare così mino e poi ragazzi andremo alla volta di insomma partiremo ragazzi miei io vi ringrazio immensamente tanto per essere stati anche quest'oggi qui con me come sempre spero e mi auguro il video di oggi sia stato di vostro gradimento e come sempre un fortissimo abbraccio a tutti voi ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.